Benvenuti su Svirgo Viaggi da Sogno. Oggi voglio parlarvi di una delle città più belle e affascinanti del mondo, Venezia. Se state pianificando una visita a questa città d'arte e cultura, allora questo video è proprio quello che fa per voi. Il mio obiettivo è quello di fornirvi informazioni utili e pratiche per trascorrere un soggiorno indimenticabile a Venezia. In questo video, vi parlerò di 5 cose che dovete sapere prima di visitare Venezia. Vi guiderò attraverso la storia di questa città, vi mostrerò come muovervi all'interno della laguna e vi presenterò le principali attrazioni turistiche che non potete assolutamente perdere. Inoltre, vi darò alcuni consigli utili per rendere la vostra visita a Venezia ancora più piacevole e senza intoppi. Venezia è una città unica al mondo, con i suoi canali, le sue chiese e i suoi palazzi storici. Ma non è solo una città d'arte e cultura, Venezia è anche un luogo dove potrete gustare alcune delle migliori prelibatezze della cucina italiana e trascorrere momenti indimenticabili con gli amici o la famiglia. Siete pronti a scoprire tutto quello che c'è da sapere prima di visitare Venezia? Allora, continuate a seguire questo video. Venezia è stata fondata nel V secolo d.C. Da rifugiati provenienti dalla terraferma, che cercavano rifugio dalle invasioni barbariche. Nel corso dei secoli, Venezia si sviluppò come una grande potenza marittima, grazie alla sua posizione privilegiata nella laguna adriatica. Durante il Medioevo, Venezia divenne un importante centro commerciale e culturale, conosciuta in tutto il mondo per la sua arte, la sua architettura e la sua musica. Nel rinascimento, Venezia continuò a prosperare grazie al commercio con il Mediterraneo e con l'Oriente, diventando una delle città più ricche e potenti d'Europa. Nel corso dei secoli, Venezia ha subito numerosi cambiamenti e trasformazioni, ma la sua bellezza e il suo fascino sono rimasti mutati. Oggi, Venezia è una città d'arte e cultura, ma anche una meta turistica molto apprezzata per la sua unicità e il suo romanticismo. Continuate a seguire questo video per scoprire di più sulla storia di Venezia e sulle sue principali attrazioni turistiche. Venezia si trova nella parte nord-orientale dell'Italia, ed è la capitale della regione del Veneto. La città è costruita su un'ampia laguna, che si estende per circa 550 chilometri quadrati, ed è situata a pochi chilometri dal mar Adriatico. La città di Venezia è composta da 118 piccole isole, tra le quali si snodano oltre 170 canali e 400 ponti. La maggior parte delle isole sono collegate da ponti e da un sistema di canali navigabili, che rendono la città unica al mondo. Venezia è stata costruita sulle isole della laguna grazie all'ingegno degli antichi Veneti, che sfruttarono le particolari caratteristiche del luogo per creare un sistema di canali e di ponti che consentisse di muoversi agevolmente all'interno della città. La costruzione delle case e dei palazzi è stata effettuata su pali di legno infissi nel fango, per resistere alle maree e alle inondazioni. Oggi, Venezia è una città molto amata dai turisti di tutto il mondo, che la visitano per ammirarne la bellezza e la storia. Continuate a seguire questo video per scoprire quali sono le principali attrazioni turistiche di Venezia. Il clima di Venezia è di tipo subtropicale umido, con estati calde e inverni piuttosto freddi. Le temperature estive possono raggiungere i 30 gradi centigradi, mentre quelle invernali si aggirano intorno ai 5-7 gradi centigradi. Il periodo migliore per visitare Venezia è la primavera e l'autunno, quando le temperature sono miti e il clima è più piacevole. Durante questi mesi, la città è meno affollata e si può godere appieno della sua bellezza e del suo fascino. L'estate è invece il periodo più turistico dell'anno, ma anche il più caldo e affoso. Durante l'estate, Venezia è presa d'assalto dai turisti di tutto il mondo, e le strade e i canali sono spesso affollati e rumorosi. L'inverno è invece una stagione meno turistica, ma comunque molto suggestiva, soprattutto durante il periodo del Carnevale di Venezia. Durante l'inverno, le temperature possono scendere sotto lo zero, e in alcuni casi può anche nevicare. In ogni caso, Venezia è una città che merita di essere visitata in qualsiasi periodo dell'anno, ma scegliere la stagione giusta può rendere la vostra esperienza ancora più piacevole. A Venezia ci sono diverse opzioni di trasporto per spostarsi all'interno della città, a seconda delle vostre esigenze e del vostro budget. La navigazione sui canali è certamente uno dei mezzi di trasporto più caratteristici di Venezia, e consente di ammirare la città da un punto di vista unico. Potete scegliere di noleggiare una gondola o una barca a remi per un'esperienza romantica e suggestiva, oppure optare per un vaporetto, il trasporto pubblico che attraversa i canali della città. Il vaporetto è sicuramente il mezzo di trasporto più economico e pratico per spostarsi a Venezia. Ci sono molte linee di vaporetto che coprono l'intera città, e i biglietti possono essere acquistati presso le stazioni di servizio a CTV, oppure online. Potete scegliere tra biglietti singoli o abbonamenti per più giorni, a seconda della durata della vostra visita. In alternativa, potete optare per una passeggiata a piedi per le strade e i ponti di Venezia, che vi consentirà di scoprire la città in modo più dettagliato e di ammirare i suoi monumenti e i suoi tesori nascosti. Anche in questo caso, potete optare per una guida turistica professionale, che vi accompagnerà alla scoperta dei luoghi più suggestivi e caratteristici di Venezia. In ogni caso, scegliere il mezzo di trasporto giusto vi consentirà di godere appieno della bellezza di Venezia e di vivere un'esperienza indimenticabile. Venezia è una città ricca di attrazioni e monumenti, che meritano di essere visitati durante la vostra vacanza. La Basilica di San Marco è certamente uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi di Venezia. Situata nella celebre piazza San Marco, la Basilica si distingue per la sua architettura bizantina e per i suoi preziosi mosaici dorati. Al suo interno, potete ammirare il celebre pala d'oro, un altare ricoperto di oro e pietre preziose, e il tesoro della Basilica, che ospita numerose opere d'arte. Il Ponte di Rialto è un altro luogo imperdibile di Venezia, che attraversa il Canal Grande. Costruito nel XVI secolo, il ponte è considerato uno dei simboli della città, e offre una vista spettacolare sulla laguna e sui suoi canali. La Galleria dell'Accademia è invece uno dei musei più importanti di Venezia, che ospita numerose opere d'arte, tra cui dipinti e sculture di artisti famosi come Tiziano, Veronese, Tintoretto e Canaletto. Il museo si trova nel sestiere di Dorsoduro, e offre una panoramica completa sulla storia dell'arte veneziana. Il Palazzo Ducale è invece un altro monumento di grande importanza storica e artistica. Situato nella celebre piazza San Marco, il palazzo era la sede del governo della Repubblica di Venezia, ed è caratterizzato dalla sua architettura gotica e dalle sue numerose sale riccamente decorate. Queste sono solo alcune delle attrazioni principali di Venezia, che meritano di essere visitate durante la vostra vacanza. Altre attrazioni da non perdere sono ad esempio il Canal Grande, il Teatro La Fenice, il Ghetto di Venezia e molti altri. Per godervi appieno la vostra visita a Venezia, è importante seguire alcuni consigli pratici. In primo luogo, vi consigliamo di prenotare in anticipo i biglietti per le attrazioni principali della città, come la Basilica di San Marco o il Palazzo Ducale, per evitare lunghe code e attese. Potete farlo online o presso i punti vendita autorizzati presenti in città. Inoltre, vi suggeriamo di portare con voi una mappa della città, per orientarvi meglio e non perdervi tra le numerose calli e campielli. Potete acquistare una mappa presso i negozi turistici o scaricarne un informato digitale sul vostro smartphone. Un altro consiglio importante è quello di indossare scarpe comode, in quanto a Venezia si cammina molto e le strade sono piuttosto irregolari. Le scarpe con il tacco alto o le scarpe da ginnastica nuove potrebbero causare fastidi e dolori ai piedi. Infine, ricordate di prestare attenzione ai prezzi dei ristoranti e delle attività turistiche, per evitare spiacevoli sorprese. In alcuni casi, potrebbe essere più conveniente mangiare o acquistare souvenir fuori dalle zone turistiche più frequentate. Seguendo questi semplici consigli, sarete pronti a godervi al meglio la vostra visita a Venezia e a scoprire tutte le sue meraviglie. In questo video abbiamo fornito informazioni utili per una visita a Venezia, dalla sua storia alla sua posizione geografica, dalle opzioni di trasporto alle attrazioni principali della città. Abbiamo anche dato alcuni consigli pratici per godersi al meglio la visita. Vi invitiamo quindi a visitare Venezia e scoprire tutte le sue meraviglie, seguendo i consigli che vi abbiamo fornito. E se vi è piaciuto questo video e volete vedere altri contenuti simili, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Svirgo Viaggi da Sogno e attivare la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi video. Grazie per averci seguito e arrivederci a Venezia.